Senatrice Comaroli, la Lega Nord come ha cercato di rimediare all'errore del Movimento 5 Stelle in merito all'inserimento del DURT nel DL Fare? Presentando un emendamento e mettendolo fra i segnalati, proprio per rimediare a questa azione vergognosa, perché anziché semplificare già i super tartassati, i nostri piccoli imprenditori, gli hanno creato ancora di più tutte incombenze burocratiche inutili. E noi per fortuna siamo riusciti adesso a presentare l'emendamento dove dovrebbe il Governo approvarcelo. La Lega Nord è favorevole agli appalti a chilometro zero, per questo motivo che cosa ha proposto? Anche in questo caso abbiamo proposto una forma che faciliti proprio questi appalti regionali e a chilometro zero. Una battaglia anche questa che noi abbiamo sostenuto e anche questo qua il Governo sembra che ci abbia dato alcune aperture. Poi dipenderà sempre loro se c'è questa volontà o, come sta succedendo purtroppo, questa volontà al contrario di tartassare la nostra Lombardia e soprattutto il nostro Nord. In merito alla questione dei tribunali, la Lega Nord che cosa ha chiesto? Anche in questo caso abbiamo presentato un emendamento dove chiediamo la proroga di un anno dell'entrata in vigore di quel taglio che sia il Governo precedente Monti sia l'attuale con la Ministra Cancellieri stanno portando avanti. Perché i nostri tribunali non vanno falcidiati così a priori, ma vanno analizzati e verificare quali sono i tribunali efficienti e che producono risultato. Invece molto probabilmente questo Governo salverà solo i tribunali del Sud, infischiandosene dei tribunali del Nord che come al solito sono molto efficienti.